Ragione su tutto, perché hanno pagato i posti balca e per tre anni sono sempre stati col patema d'animo di perdere tutto, va bene o no? Però i titoli dei posti balca devono capire chi sono i responsabili di questo. Certo non siamo noi, se ci avessero fatto continuare a lavorare il porto sarebbe finito, come abbiamo sempre fatto tutte le cose. Ma adesso lei ha un'idea di finirlo? Io lo posso finire, se me lo affidano io lo finisco il porto. Me lo finisce, si lo affidano? Sì, però me lo devono affidare, mi devono dare le famose opere a terra che io avrei la riserva mentale di non fare, le faccio. Quindi si impegna a finirlo? Io metto i soldi, trovo i finanziamenti e finisco poi, però mi devono dare le opere a terra, tutte le faccio.